Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tragico lutto per la musica italiana, nelle scorse ore è arrivata la terribile notizia. Nex sconvolto dal terribile lutto, il dolore e l'ancinante. Viviana Volpato è morta. Se n'è andata una vera guerriera, un grande esempio di forza e coraggio. La sua storia ha lasciato tutti senza parole. La sua perdita ha lasciato un vuoto incolmabile nelle vite di tutti coloro che le volevano bene e di tutti quelli che conoscevano la sua condizione. Viviana era una grandissima tifosa del Milan e il suo più grande idolo era Nex. Era riuscita a conoscere e incontrare il famoso cantante italiano, un momento indimenticabile che è stato catturato in una foto che ha sempre custodito con amore. Nonostante le previsioni dei medici, che le avevano dato sei mesi di vita, Viviana Volpato è riuscita a vivere per altri 43 anni. Purtroppo, verso la fine del 2023, la malattia è tornata, questa volta senza lasciarle scampo. La madre ha raccontato che negli ultimi 21 giorni di vita, la figlia era ricoverata all'ospice di Cittadella.